Ebbè, questo è il trentennale della nostra manifestazione, che tra l'altro è una manifestazione di questo tipo, quindi di ricordi del passato e di presentazione al presente, più antica della provincia di Terramo. Noi siamo stati i primi. Poi molti ci hanno un po' imitato, copiato, però a noi questo non mi interessa perché quando si viene copiato è evidentemente perché si è in avaguardia. Cosa propone il Sant'Antonio? Prima di tutto propone i canti di questa, del Sant'Antonio Bale, che hanno una nascita molto antica, ne parla di vittura Ovidio, dei canti di questa, delle compagnie itineranti lungo zona Agresti, perché allora il mondo era fatto soprattutto di agricoltura, quindi i committivi che portavano la benedizione del santo, soprattutto rivolto agli animali, che Sant'Antonio è il santo degli animali domestici. E quindi non era nemmeno gratuito a questa prestazione, chiamiamolo così, perché chiedevano ovviamente cibo e vino, soprattutto vino, perché si dice che erano un po' Beoni i cantori del Sant'Antonio. Trasferito alla nostra epoca praticamente è un revival di quello che era la storia antica di questa manifestazione e di questi canti. Sono stati riscoperti, sono stati anche scritti nuovi. Noi portiamo quest'anno un canto nuovo musicato dal maestro De Carolis, plantato da un gruppo di dieci ragazzi, a dimostrazione che effettivamente gli interessi ci sono anche sui giovani e questo ci fa estremamente piacere. Il Sant'Antonio riproporrà in questi tre giorni gruppi itineranti, musici, teatranti che per le vie del nostro bellissimo territorio all'interno del centro storico naturalmente rappresenteranno l'eterna lotta tra il bene e il male, il bene rappresentato e personificato dal Sant'Antonio e il male personificato dal demonio, dal diavolo. Saranno naturalmente tre giorni di grande festa, ci sarà l'opportunità di degustare i prodotti tipici del nostro territorio ma soprattutto i famosi cillitti, il paese di Cermignano è famoso per questo dolce importante, è uno dei pochi e l'unico forse io direi l'originale è il celletto di Cermignano e sarà anche occasione per poter anche visionare la mostra fotografica che è uno spaccato del nostro territorio, della nostra storia.